E' la storia di un italiano emigrato in America Latina. Nei giorni scorsi il Papa ha annunciato la imminente canonizzazione del beato Artemide Zatti. Era nato nel 1880 a Boretto, in provincia di Reggio Emilia, dove già in tenera infanzia dovette lavorare come bracciante a causa della miseria. A 17 anni emigrò con la famiglia in Argentina. A Bahia Blanca frequentava la parrocchia retta dai salesiani ed entrò nella congregazione di Don Bosco. Assistendo un giovane sacerdote affetto da TBC, contrasse la malattia, dalla quale guarì prodigiosamente in seguito al voto di dedicarsi a servizio dei malati. Come fratello laico si consacrò totalmente a servizio degli infermi, assumendo la direzione dell'ospedale di Viedma in Patagonia, operando anche come esperto infermiere, stimato dai malati e dagli stessi sanitari, dedicando tutto se stesso, con grande abnegazione e delicatezza, ai malati nei quali riconosceva la presenza del Signore. Nel 1950 una brutta caduta manifestò i sintomi di un cancro, da lui lucidamente diagnosticato, e per un anno ancora, nonostante la sofferenza, si dedicò al servizio, fino a quando dovette arrendersi alla morte, avvenuta il 15 marzo 1951.